Ehi Deril! Che intervista del cazzo! Ti va uno a birra? Comunque se vuoi dire qualcosa al nostro gruppo loro ci ascoltano è come il grande fratello. Ci spiano mentre facciamo la cacca. Sì. Grazie amico. Una birra è quello che ci vuole. Comunque non è vero che sono frocio. In realtà mi sono innamorato di Kate. Solo che lei ha un altro. Ed io ho paura di soffrire. Ma allora sei proprio un coglione. Un coglione con la cima uscola. Ma dimmi ci fai o ci sei? No. Ti prego dimmelo. Ti ho appena detto che il gruppo ci può sentire e tutti sputtani. Oh merda. Dici che Kate mi avrà sentito? No guarda. Secondo te vi guarda solo perché siete belli? Siete tutti due dei coglioni. Ma dove volete andare? Finirete dritti tutti su segnalazione. E Facebook vi chiuderà tutto. Senti cioccolatino. Cosa cazzo vuoi? Guarda che vengo là. Sei simpatico come un dito al culo rigirato con la sabbia. Lascialo stare. Sai ho avuto lezioni private da Vegeta. Ed io conosco il Kung Fu, Muay Thai, Karate e altre 65 parole molto pericolose. Non ti conviene. Ah coglione. Io sono immortale. Mi fai una ricca pipa a due mani. Ora vengo lì e ti faccio diventare al gusto di latte. Sono una marionetta ia ia ia. Nel mio intimo c'è Cigli. Nel mio intimo vorrei un cazzo da qualcuno di voi. Ah. Dimenticavo. Sono una trans. Dimenticavo.